buongiorno a tutti nel vlog anche oggi ci siamo lasciate in questo modo e riprendiamo sempre insieme esatto oggi è l'ultimo giorno effettivo qua a los angeles purtroppo e c'è un tempo leggermente però speriamo magari che domani anche se staremo qua solamente fino alle quattro e mezza speriamo che ci sarà un bel tempo io non lo so magari è perché siamo circondati dall'inglese ma non so più parlare in questi giorni io non c'è mi impatti lì sempre per andare a farsi slimare esattamente io invece no sei felice di questo no però i miei capelli sono felicissimi io andrò a prendere qualcosina così dopo se abbiamo tempo perché faremo un bel video esatto assaggio snack assaggi snack americani e niente ci aggiorniamo più tardi addios abbiamo finito la nostra colazione molto molto buona approvata mi metterò non so magari twins che siamo con la giacca di jeans e abbiamo preso alla fine yogurt granola e fragole hai preso anche tu l'orange giugno io ho preso l'english breakfast sai che io non riesco a berlo a te la mattina zero mi vieni a addormentarlo no io se no se prendo di il caffè sono ancora più attiva di come sono già la mattina io ho preso il caffè mi hai combinato è buttata in piscina la multa è arrivata la multa che siamo in piscina che cos'è hai vinto pensavo già che avessi fatto perché io ho un disordine incredibile in camera e pensavo fosse per quello ok hai vinto io mi sono appena cambiata questo qua è il vestito per l'orange carpe che sono con il tacco quindi speriamo di non cadere di non fare figuracce ma non credo mi sono un po esercitata e se riesco faccio magari un quadratura più ampia così che si può vedere anche meglio il vestito e sono super super emozionata per andare a fare l'orange carpe non vedo assolutamente l'ora sono un sacco emozionata e cercherò di prendermi insomma il più possibile speriamo che vada molto bene perché non voglio cadere Hilera... se usano in curva sin me è heldurbi ok no, no... voi, ma andanculo all me è guardata in curva Wait, la gara si un culba Oh! UMUUUUUUA! Great Ten of ten YAY! Thank you! Challenge Lo hiciste muy bien Check! We did it, you did it Bae Ciao ragazzi, ho appena pinto di fare l'Orange Card, quindi è stato super super bello, spero davvero che potremo impostarle un po' prestissimo e è stato davvero meraviglioso, sono state parole, magari, non so, questa sera vi spiego un po' meglio, perché ovviamente sono un po' difficile registrare tutto. Ciao Italia, ciao Italia! Grazie a tutti!